Sono invidiosi, vi giuro che i miei connazionali qui in Germania attualmente sono invidiosi. Io ovviamente parlo sempre con tanti amici qui in Germania e mi dicono ma quanto è bella la Serie A, ma è veramente competitiva, combattono tantissime squadre per un obiettivo, c'è Milan, Inter, Napoli che sono praticamente quasi lo stesso ponteggio, l'Inter con una partita almeno, 54, Milan 55, Napoli 53, ma anche la lotta per la Champions League è devastante. Juventus adesso 46 punti, Atalanta 44 punti, però con una partita in meno amici e come vi ho già spiegato oggi nel video sul mio secondo canale, Interista tedesco, la competitività fa bene al calcio, ti fa addirittura massimizzare i profitti perché la gente ti vuole vedere, anche qui in Germania per esempio adesso fanno vedere la Serie A su De Son Germania e la gente si diverte guardarla, forse si diverte più come vedere la Liga E dove il Paris Saint Germania ha già vinto, di vedere la Bundesliga dove il Bayern Monaco nonostante che prende 4 gol in 40 minuti in un primo tempo, sembra di aver già vinto la Bundesliga, la competitività fa veramente bene ad un campionato e quest'anno la Serie A è spettacolare, anche i commentatori su De Son, amici, oggi sono stati veramente pieni, pieni di entusiasmo, sapete perché ve lo dico? Perché posso già immaginare che tanta gente nei commenti sarà molto, diciamo, negativa e lo capisco anche sotto qualche punto di vista. I Uventini, da un lato, se non dovessero andare in Champions League sarebbe un disastro, amici. Il montingaggi più alto, il mister più pagato della Serie A, con l'anquisto pazzesco di Vlaovic di quasi 80 milioni di euro a gennaio nel cosiddetto mercato della riparazione dove normalmente tu vai a sistemare, modificare qualcosa e normalmente non fai questi acquisti. Perciò è un rischio grandissimo, ma secondo me è un rischio calcolato dall'erigenza Juventus che ha detto che senza Champions sarebbe veramente un danno, un danno di reputazione, un danno economico incredibile. Perciò andiamo all-in, facciamo acquisti pazzeschi, andiamo veramente a fare dei investimenti che normalmente nessuno fa a gennaio perché dobbiamo andare in Champions League. Perciò posso immaginare che qualche Juventino ovviamente non sarà contento. La Juventus con una partita in più, se l'Atalanta dovesse vincere con la partita potrebbe, diciamo, sorpassare la Juventus. Però dall'altra parte sono ancora tantissime, tantissime partite da giocare. Dall'altra parte posso anche immaginare che un tifoso dell'Atalanta, quando sei 1-0 in vantaggio, mancano pochissimi secondi e poi arriva il gol, arriva il paraggio, ovviamente il pareggio vi fa anche arrabbiare. Perciò mi trovo io qui, su questo canale provo sempre di commentare le partite in maniera abbastanza neutrale e vi posso dire, da persona neutrale, è una partita spettacolare. Io in questa stagione spesso ho anche criticato la Juventus in maniera molto molto pesante perché non aveva gioco, non arrivava nell'ultimo terzo della partita, non aveva ritmo, non c'era rapidità nelle transizioni, specialmente non arrivavano bastanti giocatori vicino all'aria. Devo ammettere che oggi ho visto una Juventus diversa. È stata una partita con tantissime partite diverse nella partita. Alcuni momenti dove la Juventus dominava, altri momenti dove l'Atalanta dominava assolutamente, però ho visto che la Juventus, secondo me, sta migliorando sotto questo punto di vista. Per esempio, spesso ho visto giocatori che andavano sul fondo e poi facevano i retropassaggi e c'erano diversi giocatori, anche nel centrocampista, che alzavano al limite dell'aria che poi potevano concludere. Perciò, secondo me, sotto questo punto di vista, una Juventus migliorata e un'Atalanta assolutamente migliorata sotto il punto di vista dell'intensità. Perché l'Atalanta, nell'ultima partita, adesso sono sei partite senza vittoria, aveva perso la sua intensità e il gioco dell'Atalanta vive dell'intensità. Amici, è un gioco come lo chiama Jürgen Klopp, il gioco heavy match. L'Atalanta vive dell'intensità e oggi l'intensità è tornata. Perciò, secondo me, è stata una partita stupenda. Una partita veramente, veramente bella da guardare, bella da analizzare e, secondo me, adesso anche bella da commentare. Allora, proviamo un po' subito da iniziare, amici. Iniziamo col minuto 13, Polo Dybala si accentra con il piede sinistro alla Ian Robben, prova di buttarla dentro. Secondo me, Dybala adesso gioca meglio e giocherà meglio con la presenza anche di Blauvic, amici. Perché spesso Dybala, lo sappiamo, uno che viene anche molto in basso, costruisce anche molto la partita e nel passato poi non c'era più nessuno lì davanti. C'era solo Morata ed era una Juventus che non aveva le distanze, che non riusciva veramente di entrare nell'ultimo terzo e sembrava un Dybala sprecato. Quando veniva in basso non c'era abbastanza, diciamo, peso lì davanti. Non arrivano più i palloni, anche se saltava qualche uomo così, ma poi se la passava, diciamo, in profondità, la Juventus era veramente isolata. Adesso, giocando così, diciamo, con più peso in attacco, con più qualità in attacco, per esempio oggi con Blauvic e anche con Morata, siccome un Dybala ne approfitta tantissimo. Anche alla fine, amici, secondo me, Dybala ha deciso questa partita, diciamo, è riuscito a portare almeno questo pareggio molto importante per la Juventus, perché ci ha provato anche negli ultimi minuti e poi ha fornito anche questo angolo, questo cross molto preciso. Parliamo di qualche singolo, amici. Boga, fatemi sapere un po' nei commenti, voi cosa ne pensate di Boga? A me piace, è un giocatore che ha un dribbling assurdo, sa anche tenere bene la palla, diciamo, nei momenti dove tu forse vuoi recuperare i secondi, vuoi fare salire la squadra, assolutamente sì. Dall'altra parte, non è un bomber, non trasmette pericolo davanti alla porta, secondo me ogni tanto è stato anche un po' troppo egoista, però la tecnica ce l'ha, questo lo devo assolutamente dire, è un giocatore con questi microtocchi che sa fare veramente, veramente bene, però ogni tanto mi è sembrato un po' troppo egoista, un po' troppo cinico, un po' troppo poco cinico davanti alla porta. Minuto 24, De Ron, tutto libero sul secondo palo, marcatura non a uomo della Juventus, marcatura a zona che non ha funzionato bene, diverse volte ho visto la Juventus in difficoltà in questa partita, quando c'erano soprattutto anche i paloni alti. De Miral, amici, secondo me De Miral oggi ha fatto un'ottima partita contro Blauvic, forse all'inizio partita l'ho visto un po' in difficoltà, lì mi piaceva molto Blauvic, ma poi con il passare del tempo, De Miral, amici, ha stessa in Knochenhaterhund, come si dice in lingua tedesca, è veramente un'attaccante di vecchio stampa, amici, molto molto fisico, secondo me dopo ha fatto veramente soffrire Blauvic, che è diventato anche un po' nervoso, si prese anche un cartellino giallo, fosse anche un po' nervoso, perché sentiva molto, diciamo, questa presenza fisica da parte di De Miral. Complimenti al portiere dell'Atalanta, amici, Sportiello ha fatto una grande partita, considerando che lui è la riserva dell'Atalanta, secondo me ha fatto veramente un'ottima, ottima partita, mi ricordo soprattutto un tiro proprio di Blauvic, anche quando dico che De Miral ha giocato bene, Blauvic è un fenomeno, amici, non è che non puoi sempre, diciamo, marcare alla perfezione, ogni tanto lui si trova nella situazione giusta da concludere, ha questo istinto, perciò c'era una situazione dove Blauvic era praticamente tutto libero, in aria, e Sportiello aveva davanti a se stesso almeno 5-6-7 giocatori, perciò la vista era veramente coperta, nonostante ciò ha tirato fuori un riflesso assurdo, la palla non era molto angolata, se fosse stata molto angolata non sarebbe più riuscito, ma comunque un riflesso veramente spettacolare, perciò complimenti a Sportiello, secondo me, essendo una riserva, oggi ha fatto veramente una grande, grande partita, poi amici c'è stata questa bomba di Malinowski, la bomba di Malinowski, amici, mi ricordava una punizione di Michel Balak in una partita contro l'Austria, oppure Roberto Carlos, amici, Roberto Carlos ogni tanto, beh, forse Roberto Carlos è meglio come esempio, perché anche Mancino, proprio questi tiri, amici, che si alzano, e il portiere salta, calcola bene per prendere la palla, e poi all'improvviso la palla scende, un'alpa, imparabile, imparabile, incredibile questo gol, e forse il giocatore migliore, prendetemi per pazzo, ma chi mi è piaciuto tantissimo questa partita, Coop Miners, Coop Miners, ma che partita ha fatto, specialmente a livello di movimenti, sembrava di accompagnare Locatelli al gabinetto, amici, perciò faceva tanti movimenti in fase difensiva, ma ogni volta quando l'Atalanta saliva, amici, partecipava anche alla manovra offensiva, perciò è stato ovunque, veramente un tuttocampista, Coop Miners, spettacolare, forse, secondo me, il man of the match, sapete che io non giudico giocatori solo in base ai gol, ai assist, questo a me non piace, io giudico che ho sempre i giocatori sotto tantissimi criteri diversi, mi è piaciuto veramente, veramente tantissimo, spettacolare amici, spettacolare questa Serie A, capisco, per un tifoso che ti fa per la sua squadra del cuore, anche per me da interista, volevo vincere ieri, ovviamente non mi è piaciuto, che adesso Milan mi è sorpassato, perciò sono ovviamente sempre discorsi diversi, da tifoso, vuoi solo vincere, vedi solo il tuo successo davanti a te stesso, ma vi posso assicurare, da tedesco, porto sempre un po' anche questi elementi interculturali, qui sul video, sul canale YouTube, che attualmente è un po' trappertutto, perfino Premier League amici, campionato, chiuso, kaput, finito, c'è Manchester City, che ormai ha vinto già da mesi, e non c'è competitività, invece in Italia, quest'anno, è una Serie A veramente meravigliosa, se dovesse rimanere così, sicuramente torneranno anche più sponsor, aumenteranno anche i ricavi, perché è una legge economica, la competitività ti fa massimizzare i profitti, è una legge economica, tutti quanti che studiano, management nell'ambiente dello sport, qualcosa del genere, è una delle prime cose che uno può, diciamo, imparare, perciò non è un caso, come dico sempre, che nei Stati Uniti, gli ultracapitalisti, mettono un monte in gaggi, perché non vogliono vedere una squadra singola, come in Liga e come in Francia, che dominia, e il resto veramente del campionato è morto, no, vogliono vedere competitività, in ogni singola partita, perciò, tanta roba amici, tanta roba, se la Serie A dovesse rimanere così, anche nei prossimi anni, secondo me, forse anche gente che non segue il calcio, inizierà a seguirlo, perché è bello così amici, è come un trilla, questo alla Serie A, fa molto molto bene, poi ovviamente ogni tiposo, alla fine vuole vedere la sua squadra, vincere, e non frega nulla della competitività, perciò, un abbraccio amici, sempre vivo il calcio, vivo la Serie A, fatemi sapere per la vostra opinione, sotto i commenti.